Ciao a tutti e bentornati a ModTutorials. Oggi concludiamo la serie su DisplayLink. Applicando il DisplayLink ad un boiler potremo tenere sotto controllo il livello del boiler, la dimensione, il livello dell'acqua e la temperatura. Parametri essenziali per assicurarci che il nostro sistema sia sempre al massimo delle efficienze. Possiamo applicare il DisplayLink anche ad un bersaglio. Tutte le volte che una freccia colpirai il bersaglio, sul display verrà visualizzato il livello di redstone emesso dal bersaglio, sia in formato numerico che in formato barra di avanzamento. Questa cosa mi fa venire in mente diverse idee per creare dei minigame. Ed infine abbiamo il Respawn Anchor. Applicando un DisplayLink al Respawn Anchor verrà visualizzata la lista dei player e il numero di morti che hanno accumulato dall'inizio del mondo. Altra cosa piuttosto interessante per i minigame. Spero che questa serie su DisplayLink ti sia piaciuta. Se hai delle domande e suggerimenti lasciami un commento. E come al solito seguimi e lascia un like per il prossimo video.